La perdonanza incassa 50.000 euro come contributo per gli eventi dichiarati patrimonio unesco, un fatto importante che premia il lavoro fatto e anche la tenacia nel non rinunciare alla manifestazione celestiniana lo scorso anno, nonostante le restrizioni legate al Covid. In tutto questo si avvicina la prossima edizione con la faccenda del Green Pass, sul quale però, secondo il sindaco Pierluigi Biondi, ci sono ancora molti aspetti da chiarire. L'idea per permettere comunque a tanta gente di partecipare agli eventi e realizzare anche iniziative diffuse, ad ogni modo Biondi assicura che a strettissimo giro sarà predisposto il piano di sicurezza, anche perché il programma artistico è pressoché pronto. Da un lato la notizia dei 50.000 euro testimonia anche la serietà con cui stiamo seguendo il dossier che ci ha portato ad ottenere il riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità per l'UNESCO e di questo ringrazio anche gli uffici e l'associazione che si sta occupando di questa cosa perché è stata molto puntuale. Dall'altro lato noi faremo come l'anno scorso, non ci siamo fatti trovare impreparati, nel 2020, non ci faremo trovare impreparati nel 2021, c'è il tema del Green Pass, certo vanno chiariti un po' di aspetti perché non è tutto chiaro su come si ottenga il Green Pass e noi vogliamo che il maggior numero possibile di persone riesca a partecipare, magari stiamo immaginando anche ad eventi diffusi in maniera tale che contestualmente si possa partecipare alla stessa iniziativa. Faremo il nostro piano di sicurezza con grande attenzione, con grande rispetto delle regole su cui già stiamo lavorando. Intanto ci si gode il successo dei Cantieri dell'Immaginario che si sono conclusi con lo straordinario concerto di Samuele Bersani, evento in cui già i protocolli di sicurezza legati al Covid hanno funzionato benissimo, per cui da questo punto di vista si è già avanti. Si è svolto tutto in maniera molto ordinata, molto puntuale, non ci sono stati problemi, il luogo è straordinario ma non lo dico io, lo dicono tutti gli artisti che sono salisi sul palco, ultimo in ordine di tempo Samuele Bersani che addirittura ha detto che questa è una città meravigliosa, qui ci vivrei, poi quando ci siamo fermati a chiacchierare dopo il concerto davvero è rimasto colpito, sia dal luogo, dalla basilica, dalla scalinata ma anche dalla città in generale.